Non si può fumare nella vetro Passa montagna, devi mettere una passata montagna, non stai bene così? Anche gli occhiali Sono bella? Sì, bellissima, andiamo fuori però ragazzi, dai che cosa stiamo facendo qua? Siamo dei semplici cittadini italiani che tutelano altri cittadini italiani e stiamo avvisando tutti dalla presenza di forseggiatrici è un problema per lei madame? Sì, credo che è cortesioso Lei è un poliziotto, un pubblico ufficiale? Non importa Allora a me non mi importa di parlare con lei cortesemente se lei non è d'accordo con il nostro lavoro si sposti, non deve guardare Nessuno non è un lavoro Per me adesso è diventato un lavoro più 100-100 Quindi io lavoro presto La difendente delle cose già le dice Sto difendendo delle cose Ok, lei cosa sta facendo madame? Sto dicendo Ma lei le conosce per me? Ma fatela parlare Intanto si fermi e consenta gli altri di parlare Prego, fermi Allora, noi svegliamo in un sistema democratico dove io non mi sveglio la mattina e svolgo una funzione che non era mia Siccome voi non siete forse dell'ordine non avete alcun titolo per additare delle persone in grangola Allora andiamo Spero che non la derubino Signora, loro stavano salendo Stia molto attenta alla borsa Io non ho mai idea di cosa sia stata Io da qua non mi muovo nemmeno si chiede Non ho bisogno di alcun paternalismo Buona giornata signora Eh grazie E allora, da qua non mi muovo